Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea. Un invito a riflettere sull'importanza di rimanere fedeli a se stessi e alle proprie aspirazioni, evitando compromessi che possono portare a insoddisfazione e infelicità. La trama del libro Rimmel, delle scrittrici Margherita Torretta e Anna Codega, pubblicato dalla casa editrice Pendragon, è la seguente. Sveva ha 18 anni e un promettente avvenire da ballerina classica davanti a sé ma, all'improvviso, un grave incidente annienta le sue prospettive. Dalle dolci colline piacentine si ritrova a dover vivere per alcuni mesi nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Parma e sarà proprio quel corpo che stava sbocciando e che le aveva permesso di definire il suo futuro a sancire invece la fine dei suoi progetti. Troverà sollievo dalla pesantezza della sua nuova condizione nel forte legame con la nonna Maria, una donna speciale dalla straordinaria vitalità e con un immancabile tocco di Rimmel sulle ciglia. Il percorso di accettazione di un corpo rappezzato richiede un tempo che si snoda attraverso delusioni e faticosi aggiustamenti di identità. Poi finalmente la musica. Una scoperta totalizzante che potrebbe dare voce alla sua più intima espressività. Ma Sveva è in ritardo, dovrà impegnarsi duramente senza mai perdere di vista i nuovi obiettivi che troppo spesso saranno offuscati da amori sbagliati e limitanti. Dovrà comprendere che il primo passo indispensabile a qualsiasi azione è la conoscenza di se stessi e che il solo modo per cercare di essere felici è rimanere fedeli alle proprie aspirazioni. D'altronde, come le ricorda una sua cara amica, se tu ti tradisci, anche tutto il resto attorno a te riserverà spiacevoli sorprese. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.